buonasera a tutti ragazzi e ragazze o per lo meglio buonanotte non vi capita bene soprattutto gli uomini di notte magari quando stai camminando su un marciapiede così no che ne so magari ci sono davanti due bambini e questi qua e questi si girano indietro e cominciano a correre fia come se tu fossi un maniaco o un pedofilo cioè io quando la gente fa così mi fanno sentire un male dentro fia cioè boh cioè non capisco cioè non penso di avere la faccia da pedofilo da maniaco non lo so cioè tu stai camminando tranquillamente potrà se cammini nello stesso senso i ragazzini sono davanti se tu sei dietro cioè questi ti guardano si girano e ti guardano male come se tu fossi un maniaco via cioè non vi è mai successo voi viaggiare una cosa che ti fa sentire male dentro via non so è una piccola esperienza negativa di vita scrivete cosa pensate nei commenti di questa cosa qua allora io posso capire che in giro ci sono tantissimi maltenzionati ma non è che appena uno ti cammina dietro uguale maniaco pedofilo cioè io non capisco il senso non è che anche a me se io mi trovo in giro di notte da solo non è che appena vedo una persona penso subito male che è un maniaco via cioè faccio un po' attenzione ma però non lo so magari sono io che invece magari bisogna pensare subito male via non lo so però a me quando mi succede a me tipo anche per esempio non so non so se sapete se conoscete quei distributori automatici di sigarette sicuramente li conoscete di merendine così cioè a me mi è capitato una volta erano le tre di notte volevo prendermi un Twix una coca cola sono andato lì in macchina e niente mi sono messo sul marciapiede mi sono messo a mangiare mi sono bevuto la mia coca cola no è arrivata una macchina con due ragazze potavili mi guardano e queste non scendono dalla macchina io ho pensato ma che cazzo facendo questi qua dopo si sono parlati fra di loro sono andate cioè praticamente se uno è lì per i cazzi suoi che mangia una merendina beve una coca cola automaticamente è un adescatore pedofilo manico cioè ma cosa vi mettono in testa le persone via ok è un conto stare attenti a persone magari di dubbio gusto via cioè però guardandomi in faccia a me non mi sembra di essere un manieco un pedofilo via cioè boh non so cosa ne pensate voi scrivete qua nei commenti io la trovo assurda berrante sta cosa qua cioè la gente non si fida più di nessuno cioè cioè non lo so boh magari sono io che sbaglio invece bisognerebbe pensare così non lo so io cioè però tu che mi stai guardando prova i medesimati di me sei in giro per strada magari sei un adulto ai 40 anni come me via cioè davanti a te magari stanno passeggiando due ragazzini via cioè a un certo punto ti vedono solo perché te sei nella sua stessa direzione che stai camminando cominciano a scappare e vedono una persona cioè come ti sentireste io personalmente mi sento male dentro via mi fanno sentire una colpa che non ho cosa ne pensate scrivete nei commenti niente vi saluto una buonanotte o un buon giorno se lo vedete di giorno questo video qua salve a tutti